L'artista esistenzialista, buongiorno a tutti, oggi parliamo di talenti e intelligenza, l'intelligenza artistica, l'intelligenza mentale, l'intelligenza fisica. L'intelligenza fisica è magari una struttura fisica speculare, particolareggiata, ragazzi o calciatori che riescono a calciare il pallone in un certo modo hanno una loro intelligenza fisica. Lo scrittore che vede le cose in un certo tipo di modo è l'occhio particolareggiato, quindi forbido e quindi un'intelligenza mentale o razzicidante. L'artista, l'intelligenza artistica, la sensibilità particolareggiata rispetto magari a tutto ciò che vede, come lo rappresenta, la sensibilità magari anche del cuoco che vede dati di prodotti, li percepisce in un certo modo, tra i profumi, i colori e quindi li rappresenta nel piatto. Quindi ecco, ognuno di noi ha una intelligenza, non tutti le abbiamo tutte, perché chiaramente se siamo canalizzati su qualcosa non siamo canalizzati su altro. Ecco che dobbiamo un attimino, lo dico anche a molti bambini, sviluppare dati talenti. Non tutti i bambini ascoltano la musica, non tutti i bambini disegno, non tutti i bambini giocano col pallone. Ognuno di noi è portato a fare qualcosa rispetto magari a quello che è maggiormente preeminente. Questo è quanto. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.